Le prime mille copie, quelle dell'edizione originale, erano divenute introvabili. Le associazioni Borgopiave e Vivaio Dolomiti hanno collaborato per la ristampa dei due libri su Borgopiave scritti da Antonio Fontane e Flavio Vizzutti e pubblicati per la prima volta tra il 1980 e il 1981. Due volumi che hanno l'intento di rappresentare un quadro unitario, quello della storia e delle peculiarità del quartiere. C'è chi negli scorsi decenni non riuscì a mettere le mani sul primo o sul secondo e si ritrova quindi con un'opera monca. Con la ristampa in 75 copie per volume, resa possibile anche grazie al sostegno di alcune realtà economiche del territorio, si potrà rimediare oppure semplicemente aggiungere l'opera integrale alla propria libreria. Il riferimento principale per l'acquisto è rappresentato dalle due associazioni. Grazie. 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 Grazie.